Allora, rieccoci insieme con l'assessore allo sport Pietro Petrozzelli, abbiamo tante cose da mandare in onda però vorrei partire dalle risposte che vi ho lasciato in sospeso, questo progetto del San Nicola senza pista Sapete quando noi abbiamo dei sogni nel cassetto, oggi questo progetto che è uno studio di fattibilità fatto da Renzo Piano, dal progettista dello stadio, però è un sogno nel cassetto era una maniera per, anche in una fase in cui si parlava della vendita dello stadio per far vedere, guardate come potrebbe essere bello lo stadio se lo acquistasse uno che ha voglia di investire un po' di risorse Era un piano B praticamente Era un piano B, ma per ora è una cosa che sta in uno degli ultimi cassetti sotto certo, a meno che la società attraverso anche degli investitori importanti non decidesse di voler mettere mani all'eliminazione della pista di atletica lo ripeto da prima, da amministratore comunale e da tifoso sarei solo molto contento di questa cosa Allora, apriamo una parentesi molto significativa perché è partito a Bari il progetto Uniti nella Meta un progetto di psichiatria sociale che vedrà giocare a rugby ragazzi con diversi disagi mentali Stefania Di Michele ha ascoltato uno degli organizzatori, Mauro D'Alonso che nel nostro tempo è psichiatra e reguista, sentiamo Abbiamo creato questo progetto che si chiama Uniti alla Meta in realtà per fare questo abbiamo chiesto aiuto ai nostri compagni di Milano i Mad Star con i quali poi abbiamo iniziato questa collaborazione che ancora oggi continua e che ha dato vita oggi insieme ad altre realtà territoriali italiane ad un grandissimo progetto che vorrebbe essere il capofila in Italia che è il capofila in Italia attualmente di un osservatore sul rugby sociale Da medico, da psichiatra la scelta del rugby è una scelta mirata perché il rugby nei suoi fondamenti, nella sua logica di gioco nella struttura del funzionamento sul campo degli atleti e anche fuori dal campo è a mio parere uno degli sport che ad oggi, che io conosco, migliori che esistano per quanto riguarda la restituzione del paziente ad un certo tipo di funzionamento sia cognitivo che funzionale cioè il paziente all'interno dello schema del gioco del rugby riesce in qualche maniera a essere obbligato a funzionare in un certo modo e quindi apprende che la regola attraverso la quale può giocare gli consente di andare avanti e poi c'è tutta una serie di metafore meravigliose sul rugby che in qualche maniera vengono interiorizzate dal paziente insomma da tutti quanti, dai giocatori e vengono lentamente integrate all'interno della propria esperienza di vita il sostegno dei compagni, i compagni che sono sempre dietro il fatto di cadere e rialzarsi il fatto anche di soffrire e di subire un placcaggio o di provare dolore diventa un elemento di vantaggio che va a migliorare la capacità di recupero Conoscevi questa bella iniziativa? Come no, conosco Mauro e mi è dispiaciuto non poter dargli una mano come amministrazione comunale quest'anno anche in un contributo per quello che lui fa lui non dice che il rugby non è solo per quegli insegnamenti di vita ma anche perché lui è un rugbysta quindi è anche appartenato con lo suo Sono stato domenica, hanno stravinto per una cosa di tipo 17-18 metri a zero il Tigri-Ragui Bari contro il... Che gioca ancora della vittoria? Gioca ancora della vittoria perché abbiamo chiesto come amministrazione comunale alla società del Bari di ospitare per un altro anno per quest'altra stagione il rugby nello stadio della vittoria perché come abbiamo detto ad agosto stiamo ultimando l'iter amministrativo con un bando di gara per assegnare il campo del Bella Vista alla disciplina sportiva del rugby però siccome tentiamo di fare le cose per bene con Garbo stiamo facendo un bando di gara e abbiamo chiesto alla società del Bari di ospitare il rugby per questi altri mesi è un appello domenica prossima gioca di nuovo il Tigri-Ragui Bari in casa contro il Monopoli sarà una partita molto difficile intorno alle 12 e mezza o 3 non mi ricordo bene l'orario allo stadio prima di andare a tifare il Bari calcio c'è tempo a proposito di queste belle iniziative nel prossimo fine settimana nel weekend tra venerdì e domenica il Comitato Italiano Paralimpico in collaborazione con Inel Puglia presenta tutti in campo il raduno delle nazionali delle federazioni italiane sport, disabilità intellettiva e relazionale la FISPES Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali la FISPES Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ibovedenti e Cecchi un raduno che si terrà dal 17 al 19 ottobre e nei campi del Dicagno a Brescia in corso al Cide De Gasperi quindi davvero un grande momento per questi sport domenica credo che ci sia una partita fra la squadra dei non vedenti di Bari con la nazionale italiana quindi è una bella iniziativa che viene anche portata avanti con l'ausilio del liceo scientifico dello sport quindi insomma ci piace segnalare anche questi eventi che solitamente vengono vengono un po' dimenticati sicuramente invece ha più visibilità De Luca autore di due o tre gol a Catania allora sentiamo cosa ha detto poco fa in conferenza stampa Diciamo che l'importante è che la palla entrava poi il resto o il primo o il secondo penso che comunque la cosa fondamentale è aver portato a casa i tre punti quindi sono contento e ringrazio comunque i tifosi che sono arrivati veramente in tanti a Catania con una trasferta così difficile e come ho detto tante volte loro sono la nostra forza il dodicesimo uomo in più quindi a loro tanto di cappello perché erano veramente tanti ed è stata veramente la nostra arma in più in quel ruolo lì mi trovo veramente bene non ero abituato a farlo perché comunque ero sempre abituato comunque a giocare con un modulo 4-4-2 quindi giocando con questo modulo qui sicuramente ho più ho più possibilità di puntare l'uomo ma in velocità di saltarlo di comunque si escono un po' fuori un po' di più fuori le mie caratteristiche quindi penso che sia fino a ora sia un un modulo giusto e anche importante per me quindi nel senso spero di continuare così e speriamo di fare tanti altri gol sinceramente no però mi piace quando parlano solo parlano solo di me senza motivo che magari non sanno neanche le cose quindi li lascio parlare e va bene così ma sinceramente non ha non mi va neanche di parlare perché non gli dà neanche tanta considerazione a uno come lui anche perché comunque se era un'altra persona anche magari dopo due giorni tre giorni magari diceva quello che aveva fatto invece come si dice non ha avuto neanche cogliere di dirlo quindi preferirei anche di parlare di questo qui che era di di Comi quindi Bari Avellini è già iniziata perché ricorderai il morso di Comi a De Luca la reazione che è costata tre turni di squalifica al giocatore del Bari ha detto non ha avuto neanche gli attributi per venire a chiedere scusa quindi la partita è già iniziata siamo entrati già nel nel clima io vorrei capire invece come ci si sta organizzando dal punto di vista dell'ordine pubblico perché ricordo la partita d'andata i tifosi avellinesi arrivarono a Bari già con le bombe praticamente fu una partita non di Coppa Italia ma fu una partita quasi una finale vista vissuta con tensioni e anche come dire violenza quindi insomma io voglio proprio capire come ci si organizza questo l'osservatorio che cosa decide ma mi sembra che se non abbia deciso qui in questo momento vuol dire che c'è via libera per i tifosi dell'Avellino a Bari senza limiti io ho soltanto quelli con la testa di tifosi senza limiti addirittura ha solo testa di tifosi va bene c'è un'altra telefonata pronto pronto salve grazie per l'opportunità io sono Damiano ciao volevo fare una domanda all'assessore Petruzzelli diciamo che sono rappresentante di uno sport non minore ma molto meno di minore men che minore il patinaggio corsa su rotelle del Cus Bari noi ci alleniamo come lei sa l'assessore lì all'interno di quello stadio che Pocanzi ha citato nello stadio della Vittoria che prenderà insomma il Bari in gestione siccome per noi quella è l'unica pista in tutta Bari perché quella è stata fatta apposta come circuito stradale del patinaggio corsa dall'ex assessore San Nicandro quello fu fatto apposta diciamo per il patinaggio corsa noi che fine facciamo sono bambini da 8 a massimo 18 anni non sono più di 20 quella pista per noi era come come dire era apposta come il pane come il pane di più ma perché dici era quella pista è ancora a vostra disposizione ci incontriamo ci vediamo e troviamo una soluzione voglio dire è la prima volta che 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 attenzione questa è una parola che io prendo come la prendo qui cioè la televisione ha detto in diretta in diretta e sicuramente credo che vedremo a disturbarla a questo punto perché per noi è proprio vitale al di là assessore al di là e chiudo la parola al di là che quanto quando ci sono quei famosi concerti di cui ha parlato Bocanzi non le dico tir e autogro e stabilizzatori sulla pista e non le nego che più di una volta siamo intervenuti a farlo noi il ripristino con la boiata ma lo so le immagini sulla curva sud per esempio troverà un avallamento notevolissimo dell'ultimo concerto del penultimo concerto di riga bue dove noi comunque abbiamo espresso ovviamente il disappunto perché capisce bene ragazzini da 8 a 18 anni che fanno questo sport diciamo in maniera veramente da sacrificio perché siamo forse una delle poche città dove a Bari non ha piste di questo genere diciamo vabbè bisogna trovare un compromesso perché comunque la situazione è un po' cambiata però c'è la parola d'assessore allo sport Pietro Petuzzeri affinché la vostra attività prosegua lì ma ogni qualvolta sono stato interessato di un problema per esempio un'altra eccellenza che ospita la nostra città è una squadra di Canua Polo in Serie A e mi hanno posto un problema perché c'erano delle lungaggini burocratiche per ottenere uno specchio d'acqua all'interno dell'autorità portuale per realizzare il loro campo da gioco io sono intervenuto e il problema l'ho risolto quando mi si pone un problema è un affronto lo risolvo devo dirvi che bisogna mettere un po' ordine in tutti quelli che utilizzavano prima lo stadio della vittoria senza lasciare traccia perché non c'era traccia diciamo dobbiamo favorire la partecipazione sportiva di un numero sempre maggiore di persone e quindi sono disponibili ad incontrarci a trovare la soluzione proficua chiacchierata è il caso di dire grazie all'assessore allo sport del comune di Bari Pietro Petrozzelli a domani con il Bianco e Rosso TV Sport ciao